Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Non c'è dubbio. La realizzi solo ora. Nel momento in cui si mettono in circolo i forconi non sai che direzione prendono i forconi. Possono colpire chiunque. In questo caso non sappiamo quale fosse la situazione precedente della ristoratrice dell'Odigiano, ma questo non ci assolve. Nel senso che proprio perché non sappiamo in quali situazioni atterrano le parole dell'odio, dovremmo evitare non solo di metterle in circolo, ma anche di rilanciarle o di trasformare in paladini e giudici supremi chi le usa come curriculum o come strumento professionale.